Bentornati a tutti sul mio canale. In questo video vi porterò un nuovo libro di Tolkien, Il cacciatore di draghi. Iniziamo subito. Il fattore Gilles di Ham. Egidius de Ammo era un uomo che viveva nel bel mezzo dell'isola di Britannia. Il suo nome completo era Egidius Eno Barbarus Julius Agricola de Ammo. In quei giorni, molto tempo fa, quando quest'isola era ancora felicemente divisa in molti regni, la gente era ricca di nomi altisonanti. Allora c'era più tempo e c'era meno gente, cosicché quasi tutti si distinguevano. Comunque, quei tempi sono ormai finiti, perciò da qui in poi chiamerò quell'uomo in breve, con il nome nella forma volgare. Egli era il fattore Gilles di Ammo e aveva la barba rossa. Ammo era solamente un villaggio, ma a quei tempi i villaggi erano ancora orgogliosi e indipendenti. Il fattore Gilles aveva un cane, che si chiamava Garm. I cani dovevano accontentarsi di nomi brevi e in vernacolo. Il latino della Bibbia era riservato a quelli più degni di loro. Garm non sapeva parlare latino, neanche da cani, ma come quasi tutti i cani dei suoi tempi, conosceva la lingua volgare, che usava per fare prepotente e lo spaccone o per far moine. La prepotenza era per i medicanti e per chi sconfinava nella proprietà, le spacconate per gli altri cani e le moine per il suo padrone. Garm provava insieme orgoglio e timore per Gilles, che sapeva essere prepotente e spaccone meglio di lui. Quelli non erano tempi di fretta e trambusto, ma il trambusto ha ben poco a che vedere col darsi da fare. Gli uomini svolgevano le proprie faccende senza trambusto e riuscivano a fare un mucchio di lavoro e anche di chiacchiere. C'erano molte cose di cui parlare, perché accadevano spesso avvenimenti memorabili. A dire vero, quando questa storia inizio, a Ham non succedeva nulla di memorabile da lungo tempo. Questo al fattore Gilles andava benissimo. Egli era un tipo posato, piuttosto abitudinario, interessato unicamente ai suoi affari. Era occupatissimo, diceva lui, a guadagnare quel che basta per sopravvivere, cioè a mantenere se stesso grasso e comodo come suo padre prima di lui. Il cane era occupatissimo ad aiutarlo e nessuno dei due si preoccupava più di tanto del vasto mondo al di là dei loro campi, del villaggio e del mercato più vicino. Ma il vasto mondo era lì. La foresta non era molto lontana e più in là, a ovest e a nord, c'erano le colline selvagge e le dubbie marchie di confine della regione montuosa. E tra l'altro c'erano ancora in giro i giganti, gente rozza e incolta e a volte molesta. C'era un gigante in particolare, più grosso e più stupido degli altri. Il suo nome non è citato nelle storie, ma non ha molta importanza. Era enorme, il suo bastone da passeggio era come un albero e il suo passo era pesante. Calpestava gli olmi come fossero a erba alta e provocava la rovina delle strade e la devastazione dei giardini, perché i suoi enormi piedi lasciavano buche profonde come pozzi. Se inciampava in una casa era la sua fine e tutti questi danni li faceva ovunque andasse, perché la testa, che gli arrivava al di sopra dei tetti delle case, lasciava che ai piedi se la cavassero da soli. Era miope e anche piuttosto sordo. Per fortuna viveva lontano nelle terre selvagge e visitava le terre abitate dagli uomini raramente o almeno non di proposito. Abitava in una grande catapecchia tra le montagne, ma a causa della sua sordità e stupidità, e anche per la scarsità di giganti, aveva pochissimi amici. Era solito fare lunghe passeggiate tutto da solo, sulle colline selvagge e nelle regioni disabitate ai piedi dei monti. Un bel giorno d'estate questo gigante uscì a fare una passeggiata e girò nei boschi senza meta, facendo un bel po' di danni. A un tratto si accorse che il sole stava tramontando e sentì che l'ora della cena era vicina, ma si rese conto di trovarsi una parte del paese che non conosceva affatto e di aver perso la strada. Prendendo la direzione sbagliata, camminò e camminò finché fu notte fonda. Allora si sedette e attese che sorgesse la luna. Poi camminò e camminò al chiaro di luna, a grandi passi, poiché era ansioso di tornare a casa. Aveva lasciato sul fuoco il suo migliore paiolo di rame e temeva che se ne bruciasse il fondo. Le montagne, però, erano alle sue spalle e si trovava già nelle terre abitate dagli uomini. Anzi, si stava proprio avvicinando alla fattoria di Egidius Aenor Barbarus Julius Agricola e al villaggio chiamato, in lingua volgare, Am. Era una notte limpida, le mucche erano nei campi e il cane del fattore Gilles era uscito a spasso per conto suo. Gli piacevano il chiaro di luna e i conigli. Non sapeva ovviamente che anche un gigante stesse andando in giro. Questo gli avrebbe dato una buona ragione per uscire senza permesso, ma una ragione ancora migliore per starsene tranquillo in cucina. Verso le due il gigante arrivò sui campi del fattore Gilles, abbatté le siepi, calpestò i raccolti e spianò i foraggio. Aveva fatto più danni lui in cinque minuti di quanti ne avrebbe fatti in cinque giorni la battuta reale di caccia alla volpe. Garm sentì dei tonfi salire lungo la sponda del fiume e corse sul versante occidentale della bassa collina, sulla quale si trovava la fattoria, tanto per vedere cosa stava succedendo. Improvvisamente vide il gigante che attraversava il fiume, con un sol passo e calpestava Galatea, la mucca preferita del fattore, schiacciando la povera bestia come Gilles avrebbe potuto schiacciare uno scarafaggio. Questo fu troppo per Garm. Guai di paura e si precipitò a casa, dimenticando di essere uscito senza permesso. Si mise ad abbagliare e pianicolare sotto la finestra della stanza del suo padrone. Per un bel po' non ci fu risposta. Il fattore Gilles non si svegliava tanto facilmente. «Aiuto! Aiuto! Aiuto!» urlò Garm. D'improvviso la finestra si aprì e volò fuori una bottiglia ben mirata. «Cai!» disse il cane, balzando agilmente di lato con consumata esperienza. «Aiuto! Aiuto! Aiuto!» sbucco fuori la testa del fattore. «Mannaggia te, cane! Cosa stai combinando?» disse. «Niente!» disse il cane. «Ti darò io il tuo niente! Domattina ti scorticherò vivo!» disse il fattore sbattendo la finestra. «Aiuto! Aiuto! Aiuto!» gridò il cane. Di nuovo Gilles sporse fuori la testa. «Se fa ancora un solo rumore ti uccido!» disse. «Che ti è successo, stupido?» «Niente!» disse il cane. «Ma qualcosa è successo a te!» «Che intendi dire?» disse Gilles, allarmato nonostante la sua rabbia. Garm non le aveva mai risposto insolentemente prima. «C'è un gigante nei tuoi campi! Un gigante enorme! E sta venendo da questa parte!» disse il cane. «Aiuto! Aiuto! Sta calpestando le tue pecore!» ha schiacciato la povera Galatea, che ora è piatta come uno zerbino. «Aiuto! Aiuto! Sta battendo tutte le siepi e calpestando tutti i tuoi raccolti! Devi essere audace e svelto, padrone, o presto non ti resterà più niente! Aiuto!» Garm comincia a ululare. «Chiudi il becco!» disse il fattore e chiuse la finestra. «Misericordia!» disse tra stesse. Sebbene la notte fosse calda, era brevidiva e tremava. «Torna a letto e non essere sciocco!» disse sua moglie. «E domattina anega quel cane! Non c'è nessun motivo per credere a quel che dice un cane! Sono capaci di raccontare qualsiasi storia quando vengono sorpresi a bighellonare o a rubare!» «Forse sì, Agatha!» disse lui. «E forse no! Ma nei miei campi sta succedendo qualcosa! O Garm è un coniglio!» Quel cane era spaventato. «E perché mai dovrebbe venire a lamentarsi di notte, dato che poteva infilarsi per la porta sul retro domattina quando vengono a portare il latte?» «Non startene lì a discutere!» disse lei. «Se credi al cane allora segui il suo consiglio, sia audace e svelto!» «Più facile a dirsi che a farsi!» rispose Giles. «Perché, per la verità, lui credevano a buona metà della storia di Garm. Nelle ore piccole della notte i giganti sembrano meno in vero simili. In ogni caso, la proprietà è la proprietà, e con quelli che sconfinavano nei suoi campi, il fattore Giles usava metodi sbrigativi, che pochi riuscivano ad affrontare. Così si infilò le brache, scese in cucina e prese il suo schioppo che era lì appeso al muro. Qualcuno potrà chiedersi cosa fosse uno schioppo. Ebbene, questa stessa domanda, si dice, fu posta ai quattro saggi letterati di Oxfamford, i quali, dopo una lunga riflessione, risposero «Uno schioppo è un fucile corto di grosso calibro, che spara molti proiettili e pallottole, in grado di arrecare morte entro un raggio limitato, ma senza una mira precisa, oggi sostituito nei paesi civilizzati, da altre armi da fuoco». A ogni modo, lo schioppo del fattore Giles aveva una bocca ampia, che si allargava come una tromba, e non sparava proiettili o pallottole, ma qualsiasi cosa Giles riuscisse a trovare e a ficcarci dentro. E non arricava morte, perché il fattore lo caricava raramente e non sparava mai. In genere era sufficiente solo farlo vedere, e questo paese non era ancora civilizzato, per cui lo schioppo non era ancora stato sostituito, anzi era l'unico tipo di fucile esistente, ed era anche raro. La gente preferiva l'arco e le frecce, e usava la polvere da sparo per lo più per i fuochi d'artificio. Beh, dunque, il fattore Giles prese lo schioppo e lo riempì con una buona carica di polvere, solo nel caso si rendesse necessarie misure estreme, e nell'ampia bocca infilò vecchi chiodi e pezzi di fil di ferro, cocce di vasi rotti, ossi, sassi e altra robaccia. Poi si infilò gli stivali alti e la casacca, e uscì passando per l'orto. La luna era bassa dietro a lui, e non vedeva nulla di più minaccioso delle lunghe ombre nere dei cespugli e degli alberi, ma sentiva tonfi spaventosi che arrivavano dal fianco della collina. Qualunque cosa potesse dire Agata, lui non si sentiva né audace né svelto, ma era più preoccupato per la sua proprietà che per la sua pelle, e così, con lo stomaco stretto dall'ansia, si diresse verso la cima della collina. All'improvviso, sopra il crinale, apparve la faccia del gigante, pallida al chiarore della luna, che brillava nei suoi grandi occhi rotondi. I suoi piedi si trovavano ancora molto più in basso, e facevano buche nei campi. La luna bagliava il gigante, e non vide il fattore, ma Gilles vide lui, e ne fu terrorizzato a morte. Senza pensarci, premette il grilletto, e lo schioppo sparò con un buato impressionante. Per fortuna era puntato più o meno verso il brutto faccione del gigante. Ne volò fuori di tutto, i sassi, gli ossi, i pezzi di terracotta e fil di ferro, e una mezza dozzina di chiodi. Dato che la portata era davvero limitata, fu solo per caso, e non per volontà del fattore, che molti di questi oggetti colpirono il gigante. Un pezzo di coccio gli finì un occhio, e un grosso chiodo gli si conficcò nel naso. «Maledizione!» disse il gigante, nel suo modo volgare di esprimersi. «Mi hanno punto!» Il rumore non l'aveva impressionato, era piuttosto sordo, ma il chiodo non gli aveva fatto piacere. Era da tempo che non trovava un insetto così feroce da perforare la sua stessa pelle, ma aveva sentito dire che lontano est, nelle chiane, c'erano libellule che mordevano come tenaglie roventi. Pensò di essersi imbattuto in qualcosa del genere. «Che brutta regione malsana!» disse. «Per questa notte non proseguirò in questa direzione». Quindi prese dal fianco della collina un paio di pecore, per mangiarle una volta giunto a casa, e tornò indietro oltrepassando il fiume, dirigendosi di buon passo verso nord-nord-ovest. Alla fine ritrovò la strada di casa, perché finalmente andava nella direzione giusta, ma il fondo del suo paiolo di rame si era completamente bruciato. Quanto al fattore Gilles, quando lo schioppo aveva sparato, egli era caduto di schiena. Rimase lì a guardare il cielo, chiedendosi se i piedi del gigante l'avrebbero schiacciato passando di là. Ma non accadde nulla, e il tonfo dei passi svanì in lontananza. Così si alzò, si massaggiò la spalla e raccolse lo schioppo. Poi all'improvviso udì il rumore di gente che festeggiava. Quasi tutti gli abitanti di Ham erano rimasti a guardare dalle finestre. Pochi si erano vestiti ed erano usciti, dopo che il gigante se n'era andato. Alcuni, ora, correvano su per la collina, gridando. Quando gli abitanti del villaggio avevano sentito l'orribile tonfo dei piedi del gigante, si erano quasi tutti infilati sotto le coperte. Alcuni si erano infilati sotto il letto. Ma Garm era insieme orgoglioso e spaventato del suo padrone. Pensava che quando era arrabbiato fosse terribile e splendido, e naturalmente credeva che ogni gigante avrebbe pensato lo stesso. Così, non appena vide Gilles uscire col suo schioppo, di solito un segno di grande collera, si precipitò al villaggio abbaiando e gridando. Venite fuori, venite fuori, venite fuori! Alzatevi, alzatevi! Venite a vedere il mio grande padrone! È audace e svelto, sta per sparare a un gigante che ha sconfinato nei suoi campi. Venite fuori! La cima della collina era visibile da quasi tutte le case. Quando la gente e il cane videro sbucare la faccia del gigante da lì dietro, furono presi dallo sgomento e trattennero il fiato. Tutti, tranne il cane, pensarono tra loro che la faccenda era troppo grossa per Gilles. Poi lo schioppo sparò e il gigante si voltò all'improvviso e se ne andò. Pieni di gioia e stupore, tutti applaudirono ed acclamarono, e a Garm per poco non si staccò la testa per il tanto abbaiare. «Evviva!» gridarono. «Gliel'ha imparato! Maestro Egidius gli ha dato quel che si meritava. Ora andrà a casa e morirà, e ben gli sta, è quello che si merita!» Quindi acclamarono nuovamente tutti insieme. Ma pur mentre festeggiavano, presero atto che dopo tutto lo schioppo poteva veramente sparare. Su questo punto, infatti, c'erano state altre discussioni nelle osterie del paese, ma ora la faccenda era chiarita. D'ora in poi il fattore Gilles ebbe ben pochi problemi di sconfinamenti. Quando tutto ormai sembrava tranquillo, alcuni dei più coraggiosi salirono sulla collina e andarono a congratularsi con i fattori Gilles. Alcuni, il parroco, il fabbro e il mugnaio, e una o due persone importanti, gli diedero una pacca sulla spalla. Questo non li fece piacere. La spalla li doleva molto, ma si sentì obbligato a invitarli a casa sua. Sedettero intorno al tavolo della cucina, bevendo alla sua salute e lodandola a gran voce. Gilles non faceva alcuno sforzo per nascondere i suoi sbadigli, ma finché ci fu da bere, quelli non ci fecero caso. Quando tutti ebbero bevuto uno o due boccali, e il fattore due o tre, inizia a sentirsi alquanto odace. Quando tutti ne ebbero bevuti due o tre, e lui cinque e sei, si sentiva odace quanto lo vedeva il suo cane. Si lasciarono da buoni amici, e lui diede loro di cuore una pacca sulla schiena. La sua mano era grande, rossa e spessa, così si prese la sua rivincita. Il giorno seguente, Gilles constatò che la notizia, raccontandola, si era gonfiata, e che nei dintorni era diventato un personaggio importante. A metà della settimana successiva, la notizia si era diffusa in tutti i villaggi nel raggio di Ventimiglia. Era diventato l'eroe delle campagne, e trovava la cosa molto piacevole. Il primo giorno di mercato gli fu offerta tanta birria da far galleggiare una barca. Vale a dire che ne ebbe quasi sazietà, e torna a casa cantichiando vecchie canzoni eroiche. Infine la notizia giunse al re, la capitale di quel regno, il regno di mezzo dell'isola, in quei giorni felici. Si trovava a circa venti leghe da ham, e in genere a corte non si prestava molta attenzione alle imprese dei villici della provincia. Ma mettere in fuga un gigante tanto dannoso parve cosa degna di nota e di qualche piccola cortesia. Così, a tempo debito, cioè dopo circa tre mesi, il giorno della festa di San Michele il re inviò una magnifica lettera. Era scritta in rosso su pergamena bianca, ed esprimeva l'approvazione reale per il nostro leale suddito e benamato Egidius Eno Barbarus Julius Agricola De Ammo. La lettera era firmata con una macchia rossa, ma lo scrivano di corte aveva aggiunto Ego Augustus, Bonifacius, Ambrosius, Aurelianus, Antoninus, Pius, et Magnificus, Dux, Rex, Tirannus, et Vasileus, Mediterranium, Partium, Subscribo. E vi era posto un grande sigillo rosso. Dunque il documento era chiaramente autentico. La lettera fece molto piacere a Gilles, e fu molto ammirata. Specialmente quando ci si accorse che bastava chiedere di vederla, essi ricevevano un bicchiere di vino e un buon posto accanto al cammino del fattore. Ancor meglio della lettera fu il dono che l'accompagnava. Il re mandò una cintura e una lunga spada. A dire il vero, il re non aveva mai usato quella spada. Essa apparteneva alla sua famiglia, ed era rimasta appesa nella sua armeria da tempo immemorabile. L'armiere non sapeva dire come fosse giunta lì, o quale potesse esserne l'uso. A quel tempo, infatti, a corte le spade piatte pesanti come quella, erano fuori moda. Perciò il re pensò che fosse proprio l'oggetto adatto da regalare a un villico. Ma il fattore Gilles ne fu deliziato, e la sua reputazione locale divenne enorme. Gilles era molto felice per come andavano le cose, e così pure il suo cane, che non ricevette mai la frustata promessa gli. Gilles era un uomo giusto, a modo suo di vedere. In cuor suo dava la giusta parte di merito a Garm, anche se non si spinse mai a menzionarlo. Continuava a indirizzargli parole dure e oggetti duri quando ne aveva voglia, ma chiudeva un occhio su molte piccole scappatelle. Garm prese l'abitudine di andare sempre più lontano. Il fattore si sentiva rispettato, e la fortuna gli arrideva. Il lavoro durante l'autunno e il primo inverno andò bene. Tutto sembrava sistemato per il meglio, fino a quando arrivò il drago. In quei tempi sull'isola i draghi iniziavano a scherseggiare. Nel regno centrale di Augustus Bonifacius non se ne vedeva uno da molti anni. C'erano naturalmente le equivoche terre di confine e le montagne desolate a ovest e a nord. Ma erano molto distanti. Da quelle parti, un tempo, avevano dimorato parecchi draghi di varie specie, compiendo scorrerie in lungo e in largo. Ma in quell'epoca di regno di mezzo era famoso per l'audacia dei cavalieri del re, e tanti draghi randaggi vennero uccisi, o tornarono con gravi ferite, che gli altri rinunciarono ad andare da quelle parti. Era ancora usanza che al banchetto natalizio del re fosse servita coda di drago, e ogni anno veniva scelto un cavaliere che aveva il compito di procurarla. Doveva mettersi in viaggio il giorno di San Nicola e ritornare con la coda di un drago al più tardi per la vigilia del banchetto. Ma da molti anni ormai il cuoco reale preparava un dolce meraviglioso, una coda di drago finta fatta di pan di spagna e marzapane, con scaglie di glassa che sembravano vere. La vigilia di Natale, il cavaliere prescelto, portava la torta nel salone, mentre gli archi suonavano e le trombe squillavano. La coda di drago finta veniva mangiata il giorno di Natale, dopo cena, e tutti, per far piacere al cuoco, dicevano che era molto più buona della coda reale. Questa era la situazione, quando comparve nuovamente un vero drago. La colpa era in gran parte del gigante. Dopo la sua avventura, questi aveva preso a visitare i suoi parenti, sparsi per le montagne più di quanto non fosse stata sua abitudine, e molto più di quanto loro gradissero, dato che cercava sempre di prendere in prestito un paiolo di rame. Ma che ottenesse il prestito o no, si sedeva a parlare in quel suo modo lento e prolisso, dell'eccellente regione più nell'est e di tutte le meraviglie del vasto mondo. Si era convinto di essere un grande viaggiatore, coraggioso. Una terra deliziosa, diceva, piuttosto pianeggiante, morbida sotto i piedi e piena di cibo a portata di mano. Sapete, mucche e pecore dappertutto, facili da trovare se si cerca con attenzione. «E cosa ci dici degli uomini?» dicevano loro. «Non ne ho mai visto nessuno», diceva lui. «In giro non si vedeva né si sentiva nemmeno un cavaliere. Miei cari amici, niente più di qualche mosca punzecchiante vicino al fiume. Perché non ci torni e non rimani lì?» dicevano. «Oh beh, sapete come si dice? Casa, dolce casa», rispondeva. «Ma forse un giorno ci tornerò, quando me ne verrà voglia. E comunque ci sono già stato una volta, ed è più di quanto molti possano dire. Ora, tornando a quel paiolo di rame, e quelle ricche terre?» si affrettavano a chiedere, quelle regioni deliziose e piene di bestiame incustodito. Da che parte si trovano? E quanto distano? «Oh», rispondeva lui, «lontano a est o sud-est, ma è un viaggio lungo». E poi faceva un resoconto così esagerato della distanza che aveva percorso a piedi e dei boschi, delle colline e delle pianure che aveva attraversato, che nessuno degli altri giganti dalle gambe più corte si mise mai in viaggio. La voce però iniziò a spargersi. Poi la calda estate fu seguita da un rigido inverno. Faceva molto freddo sui monti e il cibo scarseggiava. La voce si sparse ancora di più. Pecore e mucche divennero argomento di conversazione. I draghi drizzarono le orecchie. Avevano fame e quelle voci suonavano allettanti. «Dunque i cavalieri sono solo un mito», dissero i draghi, più giovani e inesperti. «L'avevamo sempre sospettato. Quanto meno devono essere diventati rari», pensarono i draghi più vecchi e saggi. «Sono pochi e lontani, non c'è più da temerli». C'era un drago che fu particolarmente colpito da quelle voci. Il suo nome era Cresophilax Dives, poiché era di antico lignaggio imperiale e molto ricco. Era astuto, infido, avido, ben corazzato, ma non troppo coraggioso. Ad ogni modo non temeva affatto mosche o insetti di qualsiasi sorta o dimensione, ed era terribilmente affamato. Così un giorno d'inverno, circa una settimana prima di Natale, Cresophilax distese le ali e si alzò in volo. Nel mezzo della notte atterrò tranquillamente nel cuore del regno centrale di Augustus Bonifacius, Rex et Basileus. In poco tempo fece un bel po' di danni, calpestando e bruciando e divorando pecore, buoi e cavalli. Questo accadeva in una parte del paese molto distante da Ham, ma Garm provò lo spavento più forte della sua vita. Era partito per una lunga spedizione e, approfittando del favore del suo padrone, si era rischiato a trascorrere una o due notti fuori casa. Seguiva una traccia interessante lungo i margini di un bosco quando, girato un angolo, si imbatté all'improvviso in un nuovo odore inquietante. In realtà era finito proprio contro la coda di Cresophilax, che era appena atterrato. Ma nessun cane aveva girato la coda e si era precipitato a casa più velocemente di Garm. Il drago, udendolo guaire, si voltò e soffiò. Ma Garm era già fuori dalla sua portata. Il cane corse per il resto della notte, arrivando a casa, pressa poco all'ora di colazione. «Aiuto, aiuto, aiuto!» gridò la porta sul retro. Gils lo sentì e quel giorno non gli piacque. Gli ricordava che quando tutto sembrava procedere bene, possono accadere cose inaspettate. «Moglie, fai entrare quel maledetto cane!» disse, e fagli sentire il bastone. Garm entrò in cucina con la coda tra le zampe, gli occhi stralunati e la lingua penzoloni. «Aiuto!» gridò. «Allora, allora, cosa hai fatto questa volta?» disse Gils, lanciando una salsiccia. «Niente!» ansimò Garm, troppo sconvolto per badare alla salsiccia. «Beh, piantala di farlo, altrimenti gli scortico vivo!» disse il fattore. «Non ho fatto niente di male! Non volevo combinare guai!» disse il cane. «Ma mi sono imbattuto per sbaglio in drago, e mi sono spaventato!» «Al fattore andò alla birra di traverso!» «Drago!» disse. «Maledizione a te, ficcanaso buona nulla! Perché mai sei andato a cercare un drago in questo periodo, mentre io ho tanto da fare!» «Dov'era?» «Oh, lontano, a nord, oltre le colline, al di là delle rocce ritte!» disse il cane. «Ah, laggiù!» disse Gils, molto sollevato. «C'è gente strana da quelle parti, ho sentito dire, e può succedere di tutto nella loro terra. Che se la vedano loro, non seccarmi con queste storie. Battene!» Garm se ne andò, e sparse la notizia per tutto il villaggio. Non dimenticò di sottolineare che il suo padrone non era minimamente spaventato. È rimasto indifferente, e ha continuato a far colazione. La gente ne chiacchierava allegramente sulla soglia di casa. «Come ai vecchi tempi!» dicevano. «Proprio ora che si avvicina Natale, come vuole la tradizione. Come ne sarà felice il re! Per Natale potrà avere la coda reale!» Ma il giorno dopo giunsero altre notizie. Il drago, a quanto pareva, era eccezionalmente grande e feroce, e provocava danni terribili. «Cosa fanno i cavalieri del re?» cominciò a chiedersi la gente. Altri si erano già posta la stessa domanda. A dire il vero, messaggeri provenienti dai villaggi più colpiti, da Christophilax, giungevano dal re facendosi sempre più insistenti e arditi. Tanto da chiedere apertamente. «Sire, cosa fanno i vostri cavalieri?» I cavalieri non facevano nulla. Sapevano del drago solamente in via ancora non ufficiale. Così il re li portò a conoscenza del fatto, per esteso e formalmente, chiedendo loro di prendere al più presto le misure necessarie, non appena avesse fatto loro comodo. Fu molto contrariato quando scoprì che il loro comodo non era affatto urgente, ma, anzi, veniva rimandato di giorno in giorno. Pure, le giustificazioni dei cavalieri erano indubbiamente legittime. Per prima cosa il cuoco reale aveva già preparato la coda di drago finta, per quel Natale, poiché gli piaceva fare le cose per tempo. Non sarebbe stato corretto offenderlo, portando all'ultimo aumento una coda vera. Era un servitore molto apprezzato. «Non ci importa della coda, tagliateli la testa e uccidetelo!» gridarono i messaggeri dei villaggi più colpiti. Ma era arrivato il Natale e, sfortunatamente, era stato organizzato un grande torneo per il giorno di San Giovanni. Erano invitati i cavalieri da molti reami e stavano arrivando per conquistare un trofeo prezioso. Ovviamente sarebbe stato del tutto irragionevole sciupare le possibilità di vittoria dei cavalieri delle regioni centrali, inviando i migliori di loro a caccia di draghi prima che il torneo fosse concluso. Poi arrivarono le feste di Capodanno, ma ogni notte il drago si spostava e ogni spostamento lo portava sempre più vicino a Ham. La notte di Capodanno si vide un bagliore in lontananza. Il drago si era sistemato a circa dieci miglia dal villaggio e un bosco che stava allegramente bruciando. Era un drago focoso quando gli andava. A quel punto la gente iniziò a guardare il fattore Gilles e a bisbigliare le sue spalle. Questo lo metteva molto a disagio, ma egli fece finta di niente. Il giorno dopo il drago si avvicinò di parecchie miglia. Allora lo stesso Gilles cominciò a parlare a gran voce dello scandalo dei cavalieri del re. A me piacerebbe proprio sapere cosa fanno per guadagnarsi da vivere, disse. Anche a noi, dissero tutti a Ham. Ma il mugnaio aggiunse. C'è ancora chi diventa cavaliere solo per i suoi meriti, mi dicono. Dopotutto il nostro buono Egidius qui, in un certo senso, è già un cavaliere. Il re non gli ha forse mandato una lettera rossa e una spada? Ci vuole più di una spada per creare un cavaliere, disse Gilles. Serve l'investitura e tutto il resto, o così mi sembra. A ogni modo, io ho da badare ai miei affari. Oh, ma se gli fosse chiesto, sono sicuro che il re ti darebbe l'investitura, disse il mugnaio. Chiediamoglielo noi, prima che sia troppo tardi. No, disse Gilles. Non fa per quelli come me. Io sono un fattore e ne sono fiero. Un uomo semplice e onesto. E si dice che a corte gli uomini onesti se la passino male. Saresti più adatto tu, maestro mugnaio. Il parroco sorrise, ma non per la risposta del fattore, poiché Gilles e il mugnaio erano nemici del cuore, come si diceva a Ham, e si punzecchiavano da sempre. Il parroco era stato improvvisamente colpito da un'idea che gli piaceva, ma per il momento non disse nulla. Il mugnaio non era molto contento, anzi, si accigliò. Semplice sicuramente e onesto forse, disse, ma è proprio necessario andare a corte e diventare cavaliere per uccidere un drago? Tutto quel che serve è il coraggio, come ho sentito dichiarare solo ieri da maestro Egidius. E di coraggio lui non è forse almeno quanto un qualsiasi cavaliere? Tutti quelli che erano lì presero a gridare. Certamente no, è sicuro che sì. Tre è viva per l'eroe di Ham. Gilles torna a casa molto infastidito. Stava scoprendo che una reputazione locale richiede di essere mantenuta, e la cosa può rivelarsi difficile. Diede un calcio al cane e nascose la spada nella credenza in cucina. Fino ad allora era rimasta appesa sopra il cammino. Il giorno seguente il drago si spostò nel vicino villaggio di Quercetum, Querceto in lingua volgare. Lì mangiò non solo pecore e mucche e una o due persone di tenera età, ma anche il parroco. Costui piuttosto avventatamente aveva tentato di dissuaderlo dai suoi malvagi propositi. Ci fu quindi una terribile confusione. Tutti gli abitanti di Ham salirono sulla collina guidati dal loro parroco e fecero visita al fattore Gilles. Contiamo su di te, dissero, e rimasero lì a guardarlo, finché la faccia del fattore divenne più rossa della sua barba. Quando hai tensione di partire, chiesero, Beh, oggi non posso. Questo è un fatto, disse lui. Ho molte faccine da sbrigare, col mio vaccare ammalato e tutto il resto. Vedrò cosa posso fare. Se ne andarono, ma verso sera giunse una voce che il drago si era avvicinato ancora di più. E così tutti tornarono indietro. Contiamo su di te, maestro Egidius, dissero. Beh, disse lui, proprio adesso per me è un problema. La giumenta mi si è azzoppata e sono iniziati a nascere gli agnellini. Mi occuperò della faccenda appena mi sarà possibile. Così se ne andarono un'altra volta, non senza brontolare e mormorare. Il mugnaio ridacchiava sotto i baffi. Il parroco arrestò e non fu possibile liberarsene. Si invitò a cena e fece osservazioni molto pungenti. Chiese anche cosa ne fosse della spada e insistè per vederla. Era nella credenza, appoggiata su uno scaffale lungo appena a sufficienza. E non appena il fattore Gilles la tirò fuori in un lampo salto fuori dal fodero che Gilles lasciò cadere come se fosse stato rovente. Il parroco scattò in piedi rovesciando la sua birra. Prese la spada e cercò di rimetterla nel suo fodero. Ma non vi entrava neppure di una spanna che subito saltava di nuovo fuori. Non appena il parroco staccava la mano dall'Elsa. Santo cielo! Questo è molto strano disse il parroco e osservò con attenzione il fodero e la lama. Era un uomo letterato mentre il fattore riusciva malapena a leggere le maiuscole unciali e non era nemmeno troppo sicuro della lettura del proprio nome. Per questo non aveva mai fatto caso alle strane lettere che si potevano vagamente leggere sul fodero e sulla spada. Quanto all'armiere del re era così abituato a trovare rune nomi e altri segni di potere e di importanza sulle spade e sui foderi che non ci aveva badato. Comunque le considerava cose d'altri tempi. Il parroco invece le studiò a lungo e aggrottò la fronte. Si era aspettato di trovare qualche iscrizione sulla spada o sul fodero ed era proprio questa l'idea che gli era venuta in mente il giorno prima. Ma ora era sorpreso da ciò che vedeva perché di lettere e segni ce n'erano sicuro ma non ci trovava né capo né coda. C'è un'iscrizione su questo fodero e alcuni segni epigrafici sono visibili anche sulla spada disse. Davvero? disse Gilles. e cosa significano? I caratteri sono arcaici e la lingua è barbarica disse il parroco per guadagnare tempo. Sarà necessario un esame un po' più accurato. Chiese in prestito la spada per quella notte e il fattore gliela diede con piacere. Giunto a casa il parroco tirò giù dai suoi scaffali molti libri eruditi e rimase sveglio fino a notte fonda. Il mattino seguente si scoprì che il drago si era avvicinato ancora di più. Tutti gli abitanti di Ham sprangarono le porte e chiusero battenti dalle finestre e coloro che avevano una cantina vi scesero e si misero seduti a tremare al lume di candela. Il parroco però uscì di soppiatto e andò di casa in casa e a chi lo ascoltava attraverso una fessura o dalla toppa raccontò cosa aveva scoperto con il suo studio. Il nostro buone Gideus disse per grazia del re è ora possessore di Caudimordax la famosa spada che nei racconti popolari viene volgarmente chiamata Mordicoda quelli che udivano questo nome di solito aprivano la porta. Tutti conoscevano la fama di Mordicoda poiché quella spada era appartenuta a Ballomarius il più grande di tutti gli uccisori di draghi del reame. Secondo alcune cronache egli era il bis bisnonno materno del re i canti e i racconti delle sue gesta erano molti e seppure dimenticati a corte venivano ancora ricordati nei villaggi. Se c'è un drago nel raggio di 5 miglia questa spada non rimarrà nel suo fodero disse il parroco e nelle mani di un uomo coraggioso senza dubbio nessun drago può resisterle. Allora la gente cominciò a rincuorarsi e qualcuno aprì le finestre e mise fuori il capo. Alla fine il parroco ne convince alcuni ad andare con lui ma solo il mugnaio era veramente disposto a seguirlo. Pur di vedere Gilles in un vero guaio era disposto a correre il rischio. Salirono la collina non senza lanciare sguardi ansiosi verso nord oltre il fiume. Del drago non vera traccia probabilmente dormiva si era nutrito molto bene per tutto il periodo natalizio. Il parroco e il mugnaio bussarono alla porta del fattore. Non vi fu risposta quindi bussarono più forte. Infine Gilles aprì. Aveva la faccia molto rossa anche lui era rimasto sveglio fino a tarda notte bevendo un bel po' di birra e non appena si era svegliato aveva ricominciato. Gli si fecero tutti attorno chiamandolo Buon Egidius Ardito Eno Barbus Grande Julius fedele agricola orgoglio di Ham eroe delle campagne e parlarono di caudi mordax mordicoda la spada che non si infodera vittoria o morte gloria degli agricoltori sostegno della patria e bene dei compagni finché il fattore fu completamente confuso. Allora uno alla volta disse appena ne ebbe l'opportunità. Che significa tutto questo? Che significa? Questa è la mia mattinata di lavoro sapete? Così lasciarono che fosse il parroco a illustrare la situazione e il mugnaio ebbe piacere di vedere il fattore nei guai quanto aveva desiderato. Ma le cose non andarono proprio come il mugnaio si aspettava. Da una parte Gilles aveva bevuto molta birra forte dall'altra quando apprese che la spada era in realtà mordicoda provò un bizzarro senso di orgoglio e di incoraggiamento. Da ragazzo le storie su bello Marius lo avevano appassionato molto e prima di entrare nell'età della ragione aveva a volte desiderato di poter avere una spada meravigliosa ed eroica tutta per sé. Così all'improvviso gli venne in mente l'idea di impugnare mordicoda e partire a caccia di draghi ma era abituato a mercanteggiare da tutta la vita e fece ancora un tentativo di rimandare l'evento. Cosa? disse io andare a caccia di draghi con questi vecchi gambagli e panciotto per lottare con i draghi ci vuole qualche tipo di armatura da quanto ho sentito dire non c'è nessuna armatura in questa casa e questo è un fatto disse la cosa era un po' imbarazzante a misero ma mandarono a chiamare il fabbro ferraio questi scosse il capo era un uomo ottuso e malinconico chiamato in volgare Sam l'allegro sebbene il suo vero nome fosse Fabricius Cunctator non fischiettava mai mentre lavorava a meno che non si fosse puntualmente verificato qualche disastro come la gelata in maggio dopo che lui l'aveva predetto dal momento che prediceva ogni giorno disastri di ogni sorta ne accadevano pochi che lui non avesse predetto e poteva così attribuirse nel merito questa era la sua più grande soddisfazione quindi ovviamente era rilutante a fare qualsiasi cosa potesse allontanare una sciagura scosse nuovamente il capo non posso fare un'armatura con niente disse e non è il mio genere fareste meglio chiedere al carpentiere che vi faccia uno scudo di legno non che vi servirebbe a molto contro il fuoco del drago gli abitanti di Ham si scoraggiarono ma non era facile distogliere il mugnaio dal suo piano spedire Gilles dal drago o far scoppiare come una bolla di sapone la reputazione che si era fatta negli intorni se rifiutava di andarci che ne dite di una cotta di maglia disse questa sì che servirebbe d'aiuto e non serve che sia bella perché dovrebbe servire solo come protezione e non per esibirsi a corte che ne dici del tuo vecchio giusta cuore di cuoio amico Egidius e c'è un grosso mucchio di maglie e di anelli nella fucina penso che neppure lo stesso maestro Fabricius sappia con esatezza cosa ci sia lì in mezzo non sai cosa dici disse il fabbro rallegrandosi se parli di una vera cotta di maglia non puoi averla per farne una servirebbe l'abilità dei nani ogni anellino si deve infilare in altri quattro e così via anche se la sapessi fare dovrei lavorarci per settimane e prima di allora noi saremo tutti nelle nostre tombe disse o perlomeno nella pancia del drago si torsero tutti le mani dallo sgomento e il fabbro cominciò a ridere ma ormai erano tanto allarmati che non erano più disposti a rinunciare al piano del mugnaio e si rivolsero a lui per un consiglio beh disse ho sentito dire che un tempo chi non poteva permettersi gli usberghi scintillanti fatti nelle terre del sud si accontentava di cucire anellini di ferro su una blusa di cuoio vediamo cosa si può fare in questo modo così Gilles dovete tirare fuori il suo vecchio giusto cuore e il fabbro fu rispedito di corsa nella sua fucina la frugarono in ogni angolo e rivoltarono il mucchio di metallo vecchio come non si faceva da anni e anni sul fondo trovarono tutta coperta di ruggine un'intera catasta di anellini caduti da qualche vecchia cotta del tipo di cui aveva parlato in mugnaio Sam più rilutante e triste man mano che il compito appariva più fattibile fu messo immediatamente al lavoro a raccogliere e scegliere e ripulire gli anellini e quando come fu lieto di far notare si accorse che erano insufficienti per una schiena e un petto così ampi come quelli di maestro Egidius li fecero spezzare vecchie catene e dovette martellarne le maglie per ricavarne gli anelli più fini che potè presero gli anelli di ferro più piccoli e li cucirono sul davanti del giustacuore mentre quelli più grandi e malfatti li attaccarono sul dietro e poi dato che per quanto duramente facevano lavorare povero Sam continuavano ad arrivare nuovi anellini presero un paio di brache del fattore e li cucirono anche su quelle e sopra una mensola in un anfratto buio della fucina il mugnaio trovò la vecchia intelaiatura di ferro di un elmo e mise in opera il ciabattino che dovette fare del suo meglio per rivestirla di cuoio il lavoro li impegnò per tutto il resto della giornata e per tutto il giorno successivo era la dodicesima notte la vigilia dell'ipifania ma i festeggiamenti furono trascurati il fattore Gilles celebrò l'occasione con più birra del solito ma il drago fortunatamente stava dormendo per il momento si era dimenticato della fame e delle spade i giorno dell'epifania salirono sulla collina di primo mattino portando lo strano risultato del loro lavoro Gilles li attendeva ora non aveva più scuse quindi si infilò il giusto cuore coperto di maglie e le brache il mugnaio soghignava poi Gilles si infilò gli stivali e un paio di vecchi speroni e anche l'elmo ricoperto di cuoio ma all'ultimo momento si ficò un vecchio cappello di feltro sull'elmo e sopra la cotta di maglia mise il suo grande mantello grigio a che scopo tutto ciò maestro gli chiesero beh disse Gilles se voi pensate che a caccia di draghi ci si vada suonando e tintinando come le campane di Canterbury io la penso diversamente non mi sembra sensato far sapere al drago prima del tempo che sta arrivando e un elmo è sempre un elmo e una sfida a dare battaglia è meglio che quel serpente veda spuntare dalla siepe solamente il mio vecchio cappello così forse sarò in grado di avvicinarmi di più prima che inizino i guai avevano cucito gli anelli in modo che si sovrapponessero così che ognuno pendeva su quello sottostante e certamente tintinnavano il mantello in qualche modo ne attutiva il rumore ma Gilles così bardato aveva un aspetto bizzarro non glielo dissero con difficoltà gli cinsero la vita con una cintura alla quale appesero il fodero ma la spada dovette portarla in mano poiché non stava più nel fodero se non vi era tenuta forza il fattore chiamò Garm era un uomo giusto a suo modo di vedere cane disse tu vieni con me il cane ululò aiuto aiuto gridò falla finita disse Gilles o te la farò vedere peggio di qualsiasi drago tu conosci l'odore di questo serpente e magari una volta potrà essere utile poi il fattore Gilles chiamò la sua giumenta questa lo guardò con diffidenza e annusò gli speroni ma lo lasciò montare si misero in marcia e nessuno di loro era felice trottarono attraverso il villaggio e tutti applaudivano e acclamavano la maggior parte dalle finestre il fattore e la sua giumenta cercavano di fare buon viso a cattivo gioco meglio che poterono ma Garm senza vergogna si trascinava con la coda bassa attraversarono il ponte sul fiume alla fine del villaggio quando infine non furono più in vista rallentarono e procedettero al passo tuttavia fin troppo presto oltrepassarono le terre del fattore Gilles e gli altri abitanti di Ham e giunsero nelle zone visitate dal drago c'erano alberi spezzati siepi bruciate ed erba annerita e un silenzio minaccioso il sole splendeva e fattore Gilles iniziò a desiderare di avere il coraggio di togliersi uno o due indumenti e si domandò se non avesse bevuto qualche pinta di troppo bel modo di finire Natale e tutto il resto pensò e sarò fortunato se non finirò anch'io si pulì il viso con un grande fazzoletto verde non rosso perché rosso fa infuriare i draghi o così avevano sentito dire ma il drago non si trovava scese molti viottoli larghi e stretti e passò molti campi deserti di altri fattori e il drago ancora non si trovava Garma ovviamente non era di alcun aiuto restava dietro alla giumenta e si rifiutava di usare il suo naso giunsero infine a una strada tortuosa che aveva subito pochi danni e sembrava calma e tranquilla dopo averla percorsa per mezzo miglio Gil si iniziò a chiedersi se non avesse già compiuto il suo dovere e fatto tutto ciò che la sua reputazione richiedeva decise che aveva cercato abbastanza in lungo e in largo e stava pensando di tornare indietro e alla sua cena e a come avrebbe raccontato agli amici che il drago vedendolo arrivare era semplicemente fuggito quando imboccò una svolta gomito il drago era lì disteso per metà su una siepe abbattuta e con la sua orribile testa in mezzo alla strada aiuto disse Garm e fuggì la giumenta piombo a terra e il fattore Gil cade all'indietro in un fossato quando tirò fuori la testa il drago era lì ben sveglio che lo guardava buongiorno disse il drago mi sembri sorpreso buongiorno disse Gilles lo sono ti chiedo scusa disse il drago quando il fattore era caduto gli si erano drizzate le orecchie al suono molto sospetto di anelli che tintinnavano perdona la mia domanda ma era me che stavi cercando per caso? no davvero disse il fattore chi avrebbe mai pensato di trovarti qui stava semplicemente cavalcando qua in giro si arrampicò in fretta fuori dal fossato e indietreggiò verso la giumenta grigia questa si era di nuovo alzata in piedi e brucava un po' d'erba sul ciglio della strada con aria del tutto indifferente allora è la buona sorte che ci ha fatto incontrare disse il drago il piacere è mio quelli sono i tuoi abiti della festa suppongo una nuova moda? il cappello di feltro del fattore Gilles era caduto e il mantello grigio gli si era aperto ma lui faceva finta di niente si disse nuova di zecca ma devo andare a cercare il mio cane sarà corso dietro a qualche coniglio immagino immagino di no disse Christophilax leccandosi le labbra segno che era divertito arriverà a casa molto prima di te suppongo ma ti prego prosegui per la tua strada maestro vediamo non credo di conoscere il tuo nome né io il tuo disse Gilles e lasciamo le cose così come sono come ti pare disse Christophilax leccandosi di nuovo le labbra ma fingendo di chiudere gli occhi aveva un cuore malvagio come tutti i draghi ma non molto coraggioso cosa per nulla insolita preferiva i pasti che poteva procurarsi senza lottare ma dopo una bella e lunga dormita gli era tornato l'appetito il parroco di Querceto era stato un po' legnoso ed erano anni che non assoporava un uomo bello grasso ora si era messo in testa di assaggiare questo facile boccone e aspettava solo che il vecchio sciocco abbassasse la guardia ma il vecchio sciocco non era poi così sciocco come sembrava e anche mentre cercava di rimontare a cavallo teneva ad occhio il drago la giumenta però la pensava diversamente mentre Gilles tentava di montarla in groppa scalciò e scartò il drago spazientito si preparò a scartare ti chiedo scusa disse forse ti è caduto qualcosa era un vecchio trucco ma funzionò a Gilles infatti era veramente caduto qualcosa quando era ruzzolato a terra gli era caduto caudimordax o mordicoda in lingua volgare che ora era lì sul ciglio della strada si chinò per raccoglierla e il drago scattò ma non fu veloce quanto mordicoda appena in mano al fattore la spada balzò innanzi con guizzo puntata sugli occhi del drago ehi disse il drago fermandosi appena in tempo che cos'hai lì è solo mordicoda che mi fu donata dal re disse Gilles colpa mia disse il drago chiedo scusa si abbassò e striscia i suoi piedi e il fattore Gilles inizia a sentirsi più a suo agio mi sembra che voi non mi abbiate trattato in modo leale perché no disse Gilles e poi perché avrei dovuto farlo avete tenuto nascosto il vostro eccellentissimo nome e avete finto che il nostro incontro sia capitato per caso eppure è evidente che siete un cavaliere di alto lignaggio di solito signore in simili casi era uso che i cavalieri lanciassero una sfida dopo un appropriato scambio di titoli e credenziali forse era uso e forse è ancora uso disse Gilles che iniziava a sentirsi soddisfatto quando un grande drago imperiale gli strisce ai piedi un uomo può essere scusato se si sente importante ma stai commentendo più di uno sbaglio vecchio serpente io non sono un cavaliere sono fattore e Gilles di Am ecco chi sono e non sopporto chi sconfina nei miei campi prima ad oggi ho sparato col mio schioppo a giganti che avevano causato meno danni di te e anche allora senza lanciare alcuna sfida il drago si turbò maledetto bugiardo di un gigante pensò sono stato malamente ingannato e ora cosa faccio con un fattore coraggioso e una spada così vivace e aggressiva non le veniva in mente precedenti per risolvere una situazione simile creesofilax è il mio nome disse creesofilax il ricco cosa posso fare per l'eccellenza vostra aggiunse in modo il suo dente con un occhio alla spada sperando di evitare la battaglia puoi toglierti dai piedi vecchio parassita incallito disse Gilles sperando anche lui di evitare la battaglia voglio solo liberarmi di te vattene subito via da qui e torna nella tua lurida tana avanzò verso creesofilax agitando le braccia come se stesse scacciando le cornacchie questo fu più che sufficiente per mordicoda volteggiò rapidamente nell'aria e piombò giù colpendo il drago sull'articolazione dell'ala destra un colpo sonoro che lo scosse tutto naturalmente Gilles sapeva assai poco dei metodi più indicati per uccidere un drago altrimenti la spada avrebbe colpito un punto più morbido ma mordicoda fece il meglio che poteva in mani inesperte per creesofilax questo fu più che abbastanza per giorni non poteva usare l'ala si alzò e provò a spiccare il volo ma scoprì che non ce la faceva il fattore saltò in groppa alla giumenta il drago si mise a correre e la giumenta pure il drago sbuffando e soffiando attraversò a galoppo un campo e la giumenta pure il fattore urlava e strillava come se stesse guardando una corsa di cavalli e intanto continuava a brandire mordicoda più il drago correva più si sentiva disorientato e intanto la giumenta grigia mettendo sempre avanti la sua buona zampa gli stava alle calcagna e via a capofitto giù per i viottoli attraverso le aperture delle siepi passando su molti campi e attraverso molti ruscelli il drago fumava e mugghiava e stava perdendo il suo senso dell'orientamento infine arrivarono all'improvviso sul ponte di ham lo attraversarono rombando e percorsero con gran fragore la strada del villaggio qui garm ebbe l'impudenza di uscire fuori da un vicolo e di unirsi all'inseguimento tutta la gente era alle finestre o sui tetti alcuni ridevano e altri acclamavano e c'era chi percuoteva barattoli tegami e paioli mentre altri suonavano corni zampogne e flauti e il parroco fece suonare a distesa le campane della chiesa era da almeno cent'anni che ham non si sentiva un putiferio simile proprio davanti alla chiesa il drago si arrese e si accavacciò boccheggiando in mezzo alla strada garm si avvicinò e gli anusò la coda ma ormai Chrysophilax era al di là di ogni vergogna buona gente e prode guerriero ansimo all'avvicinarsi del fattore mentre gli abitanti del villaggio si radunavano attorno a lui a una ragionevole distanza armati di forconi pertiche e rastrelli buona gente non uccidetemi sono ricco vi pagherò per tutti i danni che ho provocato pagherò il funerale di tutte le persone che ho ucciso in special modo quello del parroco di Querceto avrò un nobile cenotafio anche se sarà piuttosto magrolino farò ognuno di voi un bellissimo regalo se solo mi permetterete di andare a casa a prenderlo quanto disse il fattore beh disse il drago facendo un rapido calcolo notò che la folla era piuttosto numerosa tredici e otto penni per uno sciocchezze disse Gilles stupidaggini disse la gente corbellerie disse il cane due guinee d'oro ciascuno e i bambini a metaprezzo disse il drago e per i cani disse Garm continua disse il fattore ti ascoltiamo dieci sterline e una borsa d'argento per ogni persona e collari d'oro per i cani disse ansiosamente Chrysophilax uccidilo gridò la gente che ormai stava perdendo la pazienza una borsa d'oro per tutti e diamanti per le signore si affrettò a dire Chrysophilax ora si comincia a ragionare ma non è ancora abbastanza disse il fattore Gilles hai di nuovo dimenticato i cani disse Garm borse di che misura dissero gli uomini quanti diamanti dissero le loro mogli povero me povero me gemette il drago sarò rovinato te lo meriti disse Gilles puoi scegliere essere rovinato o essere ucciso qui subito Brandin mordì coda e il drago si fece piccolo per la paura scegli gridava la gente facendosi più coraggiosa e avvicinandosi di più Chrysophilax sbatte gli occhi ma dentro di sé rideva un fremito silenzioso che nessuno notava quel contrattare iniziava a divertirlo evidentemente si aspettavano di ricavarne qualcosa sapevano ben poco di come andava il vasto e maevaggio mondo a dire vero non c'era nessuno in tutto il regno che avesse veramente esperienza nel trattare coi draghi e i loro inganni Chrysophilax pian piano riprendeva fiato e anche la sua furbizia si lecò le labbra dite voi prezzo disse allora si misero a parlare tutti contemporaneamente Chrysophilax l'ascoltava con interesse solo una voce lo disturbava quella del fabbro ferraio non ne verrà nulla di buono ricordate le mie parole disse quest'ultimo un drago non torna indietro dite quel che volete ma anche se torna non ne verrà nulla di buono puoi restare fuori dall'accordo se è questo che vuoi gli dissero e continuarono a mercanteggiare senza fare più molto caso al drago Chrysophilax sollevò il capo ma se pensava di balzare su di loro o di smignarsela durante la discussione rimase deluso il fattore Gilles gli stava accanto masticando una pagliuzza e meditando ma teneva mordicoda ben salda in mano e teneva ad occhio il drago fermo dove sei disse Gilles o avrai quel che ti meriti oro o non oro Chrysophilax si distese alla fine il parroco fu nominato portavoce e fattosi avanti si mise a fianco di Gilles vile serpente disse devi portare qui tutte le tue malprocurate ricchezze e dopo aver esarcito quelli che hai danneggiato le divideremo equamente tra di noi quindi se farei solenne voto di non disturbare mai più le nostre terre e di noizzare altri mostri a importunarci ti lasceremo tornare a casa completo di testa e di coda e ora farei giuramenti di ritornare col tuo riscatto così forti che persino la tua coscienza di serpente dovrà mantenerli